Professore Suma, dunque settimo appuntamento di Sud Estival, sguardi di cinema italiano. Sì, il settimo appuntamento con questa novità. Ci si sposta un po' oltre confine, anche se Fasano fa parte dell'area del sud-est barese, però come provincia, pur avendo 080 come prefisso telefonico, è comunque provincia di Brindisi. Ma l'amministrazione ha aderito e quindi siamo anche curiosi di vedere la risposta poi della popolazione, della cinefila, insomma degli avanti del cinema di Fasano. Portiamo un film molto bello che ha avuto grandi riconoscimenti. Ci sarà in sala la regista, l'autore delle musiche e ci sarà anche, soprattutto, l'autore del romanzo da cui è tratto questo film. Autore del romanzo che con questo romanzo ha vinto il premio Fraiano, quindi un premio nazionale molto importante in Italia. Il film è scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio. Una storia che è ambientata in un condominio dove ci sono vari personaggi e soprattutto bravissimi attori. C'è Daniele Liotti, che è famoso anche in tv per Multifiction. C'è Kasia Smutniak. C'è niente di meno Ninetto Davoli, che era il famoso ragazzo che Pasolini utilizzava nei suoi film. E' quindi un giallo, come genere. C'è un accadimento misterioso e in questo condominio bisogna scoprire il colpevole. Bravi attori, ma soprattutto poi sarà bello, come al solito, intrattenerci con gli ospiti per parlare del film e parlare di tante altre cose.